In quest'anno Infinito ha raggiunto i suoi primi dieci anni di attività, l'Università di Torino partecipa nella presentazione al pubblico della propria conoscenza in materia di fisica, di astrofisica e lo fa in una logica di Science Gallery. La Science Gallery, quale Infinito è, rappresenta al meglio la qualità della ricerca del nostro Ateneo cercando di divulgarla nel modo più comprensibile al pubblico, in particolare agli studenti dei diversi gradi di scuola che visitano Infinito ogni anno.